una donna faceva cuocere dei ceci passò una povera e ne chiese una scodella in elemosina se li do a voi non li mangio io disse la donna allora la povera le gridò contro che tutti i ceci nella pentola vi diventino figli e se ne andò il fuoco si spense e dalla pentola come ceci che saltarono fuori cento bambini piccoli come chicchi di cece e cominciarono a gridare mamma ho fame mamma ho sete mamma prendimi in collo e a spargersi per i cassetti fornelli barattoli la donna spaventata comincia a prendere questi esserini a ficcarli nel mortaio e a schiacciarli col pestello come per farne la purea di ceci quando credette di averli ammazzati tutti si mise a preparare il mangiare per il marito ma pensando a quel che aveva fatto le venne da piangere diceva oh ne avessi lasciato in vita almeno uno ora mi aiuterebbe e potrebbe portare da mangiare a suo padre in bottega allora si sentì una vocina che diceva mamma non piangete ci sono ancora io era uno dei figliolini che si era nascosto dietro il manico della brocca e si era salvato la donna fu tutta felice oh caro vieni fuori come ti chiami cecino disse il bambino scivolando giù per la brocca e mettendosi in piedi sul tavolo bravo il mio cecino disse la donna ora devi andare in bottega a portare da mangiare al babbo preparò il paniere e lo mise in testa cecino cecino cominciò ad andare e si vedeva solo il paniere che sembrava camminasse da solo domando la strada un paio di persone e tutti prendevano spavento perché credevano che fosse un paniere che parlava così arrivò alla bottega e chiamò babbo o babbo vieni ti porto da mangiare suo padre pensò chi è che mi chiama io non ho mai avuto figli uscì e vide il paniere e di sotto al paniere veniva una vocina abbo alza il paniere e mi vedrai sono tuo figlio cecino nato stamattina l'alzò e vide cecino bravo cecino disse il babbo che faceva il magnano ora verrai con me che devo fare un giro per le case dei contadini per sentire se hanno qualcosa di rotto da accomodare così il babbo si mise in tasca cecino e andarono per la strada non facevano che chiacchierare e la gente vedeva l'uomo che pareva parlasse da solo e pareva fosse matto chiedeva nelle case avete nulla da stagnare sì ne avremmo della roba gli risposero ma a voi non la diamo perché siete matto ma come matto io sono più savio di voi cosa dite diciamo che per la strada non fate che parlare da solo ma che solo discorrevo con mio figlio e dove l'avete questo figlio in tasca ecco che cosa dicevamo siete matto ve lo farò vedere e tiro fuori cecino a cavallo d'un dito o che bel figliolo mettetelo a lavorare da noi che gli facciamo far la guardia al bue ci staresti cecino io sì e allora ti lascio qui e passerò a riprenderti stasera cecino fu messo a cavallo d'un corno del bue e pareva che il bue fosse solo lì per la campagna passarono due ladri e visto il bue in custodito lo vollero rubare ma cecino si mise a gridare padrone vieni padrone corse il contadino ai ladri gli chiesero buon uomo da dove viene questa voce disse il padrone e cecino non lo vedete e lì sul corno del bue i ladri guardarono cecino e dissero al contadino se ce lo cedete per qualche giorno vi faremo diventar ricco e il contadino lo lasciò andare quei ladri con cecino in tasca i ladri andarono alla stalla del re per rubare i cavalli la stalla era chiusa ma cecino passò per il buco della serratura aprì andò a slegare i cavalli e corse via con loro nascosto nell'orecchio di un cavallo i ladri erano fuori ad aspettarlo montarono sui cavalli e galopparono via a casa arrivate a casa dissero a cecino senti noi siamo stanchi e andiamo a dormire da tu la biada ai cavalli cecino cominciò a mettere le museruole ai cavalli ma cascava dal sonno e finì per addormentarsi in una museruola il cavallo non si accorse di lui e lo mangiò insieme alla biada i ladri non vedendolo più tornare scesero a cercarlo nella stalla cecino dove sei sono qui rispose una vocina sono in pancia un cavallo quale cavallo questo qui i ladri sbuzzarono un cavallo ma non lo trovarono non è questo non è questo in che cavallo sei in questo e i ladri ne sbuzzarono un altro così continuarono a sbuzzare un cavallo dopo l'altro finché non li ebbero ammazzati tutti ma cecino non l'avevano trovato si erano stancati e dissero peccato l'abbiamo perso e dire che ci faceva comodo e per di più e per di più abbiamo perso tutti i cavalli presero le carogne le buttarono in un prato e andarono a dormire passò un lupo affamato vide i cavalli sbuzzati e ne fece una scorpacciata cecino era ancora là nascosto nella pancia di un cavallo e il lupo lo ingoiò così se ne stette nella pancia del lupo e quando il lupo tornò fame e si avvicinò a una capra legata in un campo cecino di là dentro si mise a gridare a lupo a lupo finché venne il padrone della capra e fece scappare il lupo il lupo disse come mai faccio queste voci devo aver la pancia piena d'aria e cominciò a cercare di buttar fuori l'aria per di dietro così adesso non l'avrò più pensò andrò a mangiare una pecora ma quando fu vicino alla stalla della pecora cecino dalla sua pancia ricominciò a gridare al lupo al lupo finché non si svegliò il padrone della pecora il lupo era preoccupato c'ho ancora quest'aria nella pancia che mi fa fare questi rumori e ricominciò a cercare di buttarla fuori spara fuori aria una volta due volte alla terza salto fuori anche cecino e si nascose in un cespuglio il lupo sentendosi liberato tornò verso le stalle passarono tre ladri e si misero a contare i denari rubati uno dei ladri cominciò uno due tre quattro cinque e cecino dal cespuglio gli faceva il verso uno due tre quattro cinque il ladro disse ai compagni state zitti che mi confondete chi dice una parola l'ammazzo poi riprese a contare uno due tre quattro cinque e cecino uno due tre quattro cinque ah non vuoi stare zitto dice il ladro a uno dei compagni ora t'ammazzo e l'ammazza e all'altro tu se vuoi fare la stessa fine sai cosa hai da fare e ricomincia uno due tre quattro cinque non sono io che parlo disse l'altro ladro ti giuro non sono io credi di fare lo stupido con me io t'ammazzo e l'ammazzò ora sono solo si si disse mi dissi ora sono solo mi dico ecco potrò contare i denari in pace e tenermeli tutti per me uno due tre quattro cinque e cecino uno due tre quattro cinque al ladro si rizzarono i capelli in testa qui c'è qualcuno nascosta meglio che scappi scappò e lasciò lì i denari cecino col sacco dei denari in testa se ne andò a casa e bussò sua madre aprì e vide solo il sacco dei denari e cecino disse alzò il sacco e sotto c'era suo figlio e l'ambracciò e vissero sempre felici e contenti strette la foglia larghe la via e voi dite la vostra che io ho detto la mia ciao ciao grazie a tutti